ciao amici bentornati io gli voglio comunque bene grazie Pamput, grazie Marco Joker dai facciamogli pubblicità un po' il libro lo stesso, come si chiama? ah cazzo non ce l'ho, si chiama non era così colorato ah si adesso lo mettiamo beh però io l'ho invitato, siccome ci ha dato un buco ho detto beh allora viene a fare una roba con me i 15 per la vita, tanto Tommaso e Massimiliano dobbiamo farlo anche con voi Tommaso l'avevo anche invitato ma pampisciato perché a maggio lui c'ha da fare con i suoi giochi da tavola e noi veniamo dopo i giochi da tavola esatto, ormai non me ne frega più niente spero che tu ci faccia i miliardi no però ci faccio più soldi di quelli che faccio con un rincast e quindi è abbastanza probabile tutto sommato anche cadendo per terra e raccogliendo 60 centesimi credo che non era così colorato, disponibile dal 24 maggio 2024, è un bel romanzo e Alessandro è uno scrittore secondo me sono contento che l'abbia scritto spero che gli vada anche bene non sento parlare troppo mi dispiace però è un bel romanzo c'è con un bel twist lo sa scrivere quindi è vabbè però lo associano a zero calcare sotto quindi magari anche solo per l'algoritmo di Amazon dici funziona vai a comprare zero calcare e ti dicono metti proprio anche il link nella chat Vito ma per carità di Dio metti anche correferral fatemi fare un'altra che mi hai fatto esplodere io credo di avere ancora il tuo referra al Tommaso ma io ho usato per anni a me mi ha scritto personalmente Bezos mi ha detto guarda non so con chi ti sei associato però lascia stare non è impossibile perché il mio pure l'hanno buttato giù a un certo punto ho usato anche il mio ma per anni ho finanziato Rincas con i miei acquisti su Amazon quindi secondo me quella mezza casa che c'hai la so comprata io senti non vedo recensioni però quindi questo è un brutto segnale comprate sto cazzo di libro maledetto allora io l'ho comprato mi è arrivato in Italia e ci vado fra dieci giorni quindi non l'ho ancora aperto ma lo leggerò quest'estate sotto l'ombrellone andrò sotto l'ombrellone per ben due giorni e mi leggerò solo il libro di Alessandro io ho comprato gli occhiali nuovi adesso ne ho due uno da lettura per vecchio proprio per leggere meglio il libro di Alessandro il libro di Alessandro esatto quindi ho speso 600 euro per un libro noi ci stiamo impegnando tantissimo poi se magari venisse anche lui a fare un po' di promozione magari potrebbe essere utile comunque va bene non vogliamo fare polemica inutile no allora 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 sì se la facciamo la fai solo tu tra l'altro perché abbiamo iniziato facendo polemica alziamo le mani allora ascolta saltiamo tutto le case andiamo direttamente sul beh no vuoi fare le case se vuoi fare le case vuoi dire due cose perché le vuoi saltare qua vengono per quello abbiamo capito negli anni che di farci parlare di pazientirci di parlare di videogiochi non frega un cazzo a nessuno dai allora sono innamorati fai partire la sigla che non l'ho preparata quindi intratteni due minuti il pubblico così le cerco non ero pronto ciao amore hai fatto la spesa cosa ragazzi amore hai lavato i piatti cosa ragazzi amore stacca con i videogiochi che mi sento so ora cosa ragazzi amore basta quante volte la fai partire ce l'hai in loop eh perché c'ho vlc in loop sì chiedo scusa ok va bene allora due cose velocemente allora maggio non abbiamo fatto la puntata perché avevo una campagna crowdfunding in svolgimento e quando c'ho quella roba lì praticamente ogni sera sono sono a scrivere roba update cercare di spillare soldi a chiunque stia supportando il gioco e di solito ci sono tre settimane bisogna ogni giorno bisogna portare a casa la pagnotta quindi è molto complesso fare cose sta andando bene? è andata abbastanza bene è finita è andata abbastanza bene era solo per l'edizione inglese di un gioco che esiste già in italiano cioè in totale se sommo l'edizione italiana e quella inglese comunque è andato è andato bene speravo di fare leggermente meglio però vabbè dai non è male era la prima volta che facciamo una cosa solo in inglese senza avere però se la carta non aumenta del 300% va bene cioè poi magari dopo domani succede come l'altra volta diventa più complessa l'altra volta esatto sì 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 e ovviamente il grosso della nostra community è italiana quindi quando facciamo un prodotto che è solo in inglese è un po' più faticoso il gioco si chiama Varraven The Chronicles of Blood and Iron è ispirato pesantemente a Berserk e andrà in in late pledge fra pochissimo penso la settimana prossima quindi nel caso vi interessasse tenete la mente o contattatemi che vi do il link dove recuperarlo non è ancora aperto lo store per il late pledge grazie a Davio però ho una domanda ho due opzioni nella mia testa una tu sei un genio del keystarter due vi siete fatti un bel cazzo di nome anche all'estero con i vostri giochi perché per superare un keystarter così comunque devi avere un pubblico questo l'abbiamo fatto su un'altra piattaforma che si chiama Becker Kid Crowdfunding comunque sì beh adesso ormai è la settima campagna che facciamo questa qui ha fatto 43 mila euro mi pare solo per l'inglese quindi insomma è andata discretamente bene la stampa ce la paghiamo paghiamo una parte del lavoro non proprio tutto tutto però poi cioè comunque quando facciamo le stampe ci rimane un sacco di inventario che poi vendiamo dopo quindi in prospettiva è andata abbastanza bene come nome è il link del suo progetto Massimiliano? sì sì in questo momento non c'è la possibilità di donare però beh è giusto come riferimento sì l'anno scorso il nostro gioco o quell'altro The Broken Tail si è arrivato fra i finalisti nel premio più importante americano quindi insomma un po' il nome sta girando quindi va bene e a parte questo ecco altre cose che succedono nella mia vita e credo che adesso fra qualche giorno andrò in ferie perché qui le ferie si fanno generalmente a luglio quando tornerò penso che inizieremo a cercare una nuova casa perché questa sta diventando stretta e quindi metteremo in vendita credo questa casa e inizieremo a cercare la cosa che mi preoccupa è che qualsiasi casa con una stanza in più che alla fine è quello che ci serve cioè ogni stanza in più che vuoi sono 100.000 euro in più qua quindi quindi è abbastanza impegnativo dal punto di vista quindi hai deciso di dare via il bambino giustamente esatto ho fatto un discorso senti Valo non possiamo vai per la tua strada vai per la tua strada sentiti via in Finlandia è così i bambini a tre anni vanno per conto loro quelli che sopravvivono ce la fanno sì sì li lasci nel bosco e se escono bene se no tornano kratos più meno quindi non vedo l'ora di mettermi a fare questa cosa di cercare casa che oltre ad essere appunto economicamente molto impegnativo è anche proprio stra stressante dal punto di vista psicologico perché poi il mercato come funziona in questo momento immagino sia lo stesso anche in Italia che tu devi mettere prima la tua casa in vendita perché devi avere il cash e allo stesso tempo devi iniziare a cercare e devi praticamente vendere quando c'è la casa che ti piace da comprare è un mezzo disastro in Italia funziona che tu compri la casa mentre stai mettendo in vendita dall'altra con la promessa che la casa te la danno a marzo poi la casa ci sono mille problemi burocrati cose te la danno due anni dopo e tu per due anni devi pagare il mutuo e l'affitto e un garage e quindi ti impicchi sì beh perché però l'alternativa è se vendi troppo presto e gli altri non ti danno la casa ti tocca fare un periodo di affitto da un'altra parte quindi è molto complessa questa operazione leggevo che fra le cose che ti possono succedere nella vita è la terza più stressante non so quali sono le prime due sì fa paura le prime due infatti uno sarà avere un figlio uno sarà la guerra non so quale possa essere uno sarà quando scopri che il figlio non è tuo forse quando ho arredato la mia ho avuto un esagimento nervoso proprio strillavo alla gente sono impazzito se sei uno con un minimo di ansia cioè banalmente la mattina ti svegliavi c'era elettricista e faceva guarda ma questa presa la metto un centimetro a destra o un centimetro a sinistra e tu dici ma che cazzo mi rompi i coglioni poi in realtà nella tua vita quella decisione impatterà moltissimo e questa cosa la devi fare per tutti i giorni 40 volte se sei uno che non sa prendere decisioni impazzisci no a noi la complicazione aggiuntiva è che non abbiamo la macchina perché dove siamo siamo serviti molto bene con i mezzi pubblici però ovviamente se non vuoi spendere mezzo milione per una casa devi spostarti in zone che magari non sono servite benissimo e quindi però risparmi da una parte ma poi devi comprarti una macchina e adesso una macchina anche una fiat 500 costa tipo 65 mila euro una roba la macchina anche io la mia sta per morire è un problema perché io non voglio neanche più una macchina bella oggi non me ne frega più niente è veramente una rottura di coglione quindi forse farò anche io una formula quella in cui spendi di più però meno sul singolo quella a tre anni senza antice poi se volete una storia divertente vedo che delta 08 suggerisce un ampliamento abusivo imprefabbricato più legno sul retto della magione e allora a parte che sono in un appartamento però fatto interessante dall'altro lato della mia cucina ci sono due drogati lo sanno tutti lo sanno tutti che sono due spacciatori fondamentalmente parlare così di tua moglie e tuo figlio però a me non sembra attenzione signori quasi puntuale però senza videocamera anche oggi dai porco vabbè lo aggiungo così adesso la metterà ma c'è anche che non veniva avrei detto che non veniva yes no no ho detto che ci sono ciao a tutti come hai detto che ci sei va bene ok bella la camera nera è molto bella è effettivamente più bello del solito lo sfondo se devo dire va bene ecco attenzione non è neanche il background finto aspetta aspetta che te lo metto no no ti prego il nostro signore no stavi dicendo Tommaso hai due drogati di municini c'è una coppia di spacciatori che stanno cercando di di far andare via dall'appartamento ma è molto complesso burocraticamente e e niente cosa è successo ultimamente allora in realtà noi non li sentiamo più tanto perché l'isolamento è abbastanza buono però è successo l'altra sera in giardino sentivamo delle persone piangere e poi io ho provato a guardare fuori la finestra non vedevo un cazzo sono tornato a letto però ci hanno detto i vicini che in realtà c'era sta donna che a un certo punto è collassata sul marciapiede e hanno dovuto chiamare un'ambulanza e comunque ci hanno detto che diverse volte è venuta la polizia di notte io non ho mai sentito un cazzo però sono venuti e ecco cosa bella siccome la droga nascosta in casa e lui non si è accorto di un cazzo proprio spaccia è successo che un cliente di notte evidentemente voleva proprio avere la sua dose ha preso una roccia gigante ha spaccato il portone per entrare nel per riuscire a entrare e andare nell'appartamento di questi questo è anche un altro bel momento nel mio vicinato quindi anche un po' per quello che stiamo guardando intorno perché poi questi qua sono nello stesso cortile dove gioca mio figlio è arrivato uno dei due perché sono una coppia appunto uno dei due è arrivato con delle ferite da pugnalamento tipo con le bende sul piede vestito da mumbia quindi insomma dei bei momenti in teoria li devono mandare via entro 10-15 giorni però poi non lo so se questi qua perché poi hanno delle regole hanno delle regole incredibili qua tipo che hanno chiamato la polizia perché questi facciano casino di notte la polizia va lì e gli bussa solo che se se non riescono a fargli firmare un documento dove loro autocertificano che stavano facendo rumore non è valido e quindi c'è la polizia che gli dice sì ma firma qua che stai facendo del rumore lui fa nuovo il cazzo assolutamente meraviglioso riesci ad avviare la macchina burocratica per come si dice eviterli 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 sfrattarli sì evict è un po' inglese sfrattarli un po' italiano sfrattarli esatto vedi che c'era una parola più è il gergo tecnico immobiliare io ho tenuto che volesse virarli Tommaso e invece era banalmente lì se sono le tre e mezza di notte un po' il pensiero ti passa va bene dai hai finito il casa gas non so se Michele ha qualcosa se no andiamo direttamente ah beh scusa Massimiliano ci deve raccontare un po' delle peripezie di Incerco e ci spiega un po' perché l'industria videoludica è morta ufficialmente adesso morta dentro aspetta ma ce l'hai la sigla di Massimiliano adesso c'è tutto pronto sì mi piacciono i rododendri fibrillotteri fibrillotteri quei denti per cenno fibrillotteri quei denti per cenno fibrillotteri una volta mi sono messo un incunambolo nel cul della mia forza altro io non ho sono io il signore tuo dio cringe dicono i giovani perché non si è sentito quasi nulla almeno io non ho sentito la musica che cazzo dice era a volume altissimo non è vero mai voi non ho sentito neanche io ho sentito niente nemmeno io è stato molto bello dovevano sentirla loro perché voi ok però chi è che diceva cringe scusa io ah ok tu lo dici io non ho parlato io si offende la mia professionalità senza motivo proprio la cosa a cui si riferiva Vincenzo è che semplicemente visto che dall'altra volta parlavamo del magazine a passati due mesi l'ho chiuso quindi è stata un'apparecchio delizioso dopo quattro numeri banalmente i numeri che stavo facendo non giustificavano lo sforzo che mi richiedeva durante tutto il mese perché significava pianificarlo fare le interviste trascriverle impaginare anche i punti e virgola e quindi niente semplicemente posso farne vedere uno visto che è chiuso il progetto ma figurati certo nessun problema perché io le ho comprate dicendo un signore di un'altra proprio epoca evidentemente tra i motivi che mi sono dato è che uno era un formato la rivista digitale che probabilmente non interessava due la gente non c'ha tempo di leggere signora mia terzo faceva cagare che è un'opzione che non posso escludere a priori voglio dire faccio anche autotritica secondo me era proprio un'idea del cazzo alla base non era brutto insieme cioè mi piace non è che faceva cagare che proprio il concetto il concetto era stupido dai Massimiliano tutto l'affetto ma chi cazzo legge un pdf oggi che dopo sei secondi di ttok si ammollano e scrivono che palle io lo leggo cioè oh ma sembra il mio pubblico medio siamo noi cioè nel senso non i sedicenni ma neanche noi leggiamo più io li ho comprati Massimiliano neanche c'è il tempo di leggere quella roba là poi tra l'altro se leggo la newsletter era riassunto anche un po' della newsletter con più cose ok però c'era anche un po' di accavallamento sì sì no l'idea era boh ti do un punto di riferimento mensile così era bello però dovevi scavallare l'altro è chiaro che è figo però sinceramente sta roba è superata da un po' mi dispiace era un progetto che ho provato a fare in realtà mi sono divertito un sacco infatti come ho detto anche da altra gente se io senza guardare i numeri avessi dovuto ottenere una cosa avrei tenuto il magazine perché farlo era proprio bellissimo io non mi ricordo però per numeri non ha minimamente senso in compenso una soddisfazione arrivata perché il podcast è in finale agli Italian Podcast Awards nella categoria indipendenti informazione quindi è stato molto piacevole ma il podcast infatti non è un'idea del cazzo il podcast oggi sono seguitissimi no lo so però comunque un podcast di videogiochi che fa informazioni su videogiochi lì riconosciuto mi ha un po' sorpreso infatti hanno pagato da parte la mia virilità quando ho visto il logo sono scoppiato a piangere perché era anche un momento di difficoltà e non me l'aspettavo più io veramente non voglio sembrare critico sulla rivista la sto facendo vedere sto facendo vedere il numero due ma ma ci mancherebbe se non ha funzionato è chiaro che da qualche parte voglio far capire alla chat che questa roba qua quantitativamente è fatta da una persona sola che fa un lavoro vero fa altre 18-52 cose e ha fatto questa roba ogni mese da solo questo era il suo piano editoriale mi scrivo questa roba da solo ogni mese cioè non è una critica la bellezza del contenuto che secondo me è anche troppo bello ma è che è troppo fisicamente cioè minchia eh lo so sì no può essere anche quello lì no figurati c'è i motivi ripeto che per cui non la funziona guarda il modo in cui ti arriva l'informazione è proprio fondamentale perché lo vedo anche con sub stack io ho messo sull'app c'è questa cosa di smart delivery che dice o notifica o email ma non tutte e due in realtà a me non manda più l'email proprio zero email non me ne manda più ma per fortuna perché sono iscritto a dieci cose se no mi riempirebbe di email solo che le notifiche mi arrivano alle dieci mattina che sono al lavoro mi arrivano che sto facendo sono in palestra eccetera quindi poi devo anche ricordarmi di andare su sub stack a leggere fortunatamente l'app è fatta abbastanza bene ed è abbastanza perfetta per il bagno quando sei in bagno ti leggi un articolo su sub stack ma sicuramente me ne perdo un sacco perché appunto sono iscritto a dieci newsletter e non ho tempo di leggerle tutte onestamente infatti una funzione che vorrei che avessero è che ci fosse la lettura degli articoli perché l'audio lo posso ascoltare molto più agilmente mentre faccio altre cose e non so perché non ci sia perché a sto punto lo fai con l'intelligenza artificiale e non devi neanche pagare un lettore quindi immagino che sia una cosa acquisteranno anche lavorando perché ha proprio troppo senso però sì il formato in cui ti arriva la roba è proprio fondamentale il pdf oggettivamente era difficile infatti è una cosa che mi piacerebbe in futuro riprovare ma per forza di cose dovrà essere fisico perché magari è una cosa unica una volta una tantum è una roba annuale già un albo annuale con le migliori notizie metti là un albo anch'io voglio fare un albo di questa cosa se non le fai annuale non fai le notizie se non le fai annuale una roba monografica su un tema però puoi fare tipo riassunto del 2024 anche con gli approfondimenti e la notizia lorenzo di attualità per un prodotto che secondo me a me piacerebbe fare una roba che tu ti leggi dopo 5 anni e ti ho spiegato un pezzo di industria a quel punto allora lo fai fisico ha un suo senso quindi l'unica lezione che ho imparato è che ovviamente è proprio l'oggetto che a volte la gente compra per supportarti poi non lo legge comunque però posso fare della pubblicità spudorata? ma dove cazzo stai guardando tu Michele? e tanto ti stai allontanando per qualche motivo sì sì preso dal muro i nostri ascoltatori non vedranno ma togli il suo sfondo per una volta che eri decente cazzo di illuminazione ma no è bellissimo è bellissimo sembra che stavo registrando in un vicolo con le candele sotto siamo a Brooklyn allora avevo stampato in fisico perché mi piaceva molto di più Ring e Players Magazine l'oggetto fisico e mi ricordo che lo leggevo sentite che riccanza maledetti poveri dentro una vasca idromassaggio in un hotel 5 stelle in Austria e leggevo Players Magazine ed era veramente però non hai detto Babbel quindi sei morto per me anche Babbel hai ragione e l'altra cosa che avevo che ho comprato stampato poi non ho comprato più ma ho visto che non è morta probabilmente non ha ritorno economico che probabilmente si aspetta è solo autosostenuta è Ludenz quella di no non è morta hanno fatto tre volumi è uscito il terzo di recente esatto ed esce quando quando riescono ad uscire e mentre Thomas Emiliano è ripartito cazzo in trombissima a livello per me Ludenz Ludenz aveva dei problemi che erano diversi cioè c'è ancora evidentemente è molto di nicchia allora è molto di nicchia ancora di più probabilmente in un modo discutibile ma poi anche il tono degli articoli era molto altalenante alcuni erano approfondimenti tipo Ring alcuni erano le recensioni di PSM cioè secondo me non aveva proprio un focus super preciso quindi così così anche quello lì come progetto però diciamo che ha un'altra per me ha un altro valore quando è un oggetto ben redatto no figurati mi sono abbonato internazionale digitale solo perché non ho lo spazio per le riviste se no comprirei la rivista tutta la rivista no però se vogliamo parlare di questi progetti round 2 Marco stanno facendo pizza la gana piccata cioè io sarei curioso di vedere perché il primo numero ok lo prendi perché è figo però può effettivamente essere una roba che esce una volta all'anno e te lo prendono ogni anno sono curioso secondo me uno ogni due anni magari l'anno mi sembra trovo difficile anche organizzarlo annualmente vabbè questo ce lo dirà Marco cosa dite abbiamo un sacco di cose sì abbiamo giocato mezz'ora dell'una e mezza senza fare una sega quindi partirei dai con le tre l'hai seguito posso dire solo una cosa per la casa che mi sono divertito come un criminale sì quando sono andato negli Stati Uniti mi hanno fatto fare tipo 20 passi dietro la casa di uno per festeggiare tra l'altro c'era la torta di compleanno con i bambini eccetera abbiamo fatto 20 passi e poi il collega ha tirato fuori pistole e fucili ma non uno non due multipli eccetera no tranquillo cominciamo a sparare che ci divertiamo e niente cioè è stato questo è stato il mio la cosa più devastante che ho visto perché insomma l'approccio col cibo le persone eccetera e con le armi l'avevo già visto in passato forse ho già raccontato qualche altra storia ma il fatto di avere di avermi fatto dare in mano quello che loro usano per uccidere i suini ferali c'era questa polemica che gli dicevano ma cosa ti serve un fucile mitragliatore del genere a un civile e lui diceva ma i suini ferali che sono praticamente tipo dei cinghiali e questi gli davano in mano una roba da da esercito cioè una roba che faceva numerosi morti per secondo e e quindi ci siamo divertiti così sparando tra colleghi con gente che si girava con la pistola carica e diceva ma qua cosa succede quindi in particolare con la gente che gli aveva davanti devi portare avanti e niente quindi mi sono divertito un casino ho rischiato la vita ma sono ancora qua per voi per cagarvi il cazzo basta bene molto bene allora dai Vito tu hai visto tutto giusto? tranne l'avento dell'accessibilità e quello only donne quello only donne perché tu tu non essendo una donna hai detto va bene no no non è assolutamente quello però mi sembra una roba in cui andavano a pescare un po' troppo a caso c'era stato per esempio uno francese che ho visto qualche giorno prima bellino tra l'altro e uno sudamericano che invece ho visto qualche gioco di sfuggita su IGN però ho visto molto dai ok allora da cosa vuoi partire? dico in generale un riassunto della mia percezione a me manca un po' la formula Xbox che ha fatto un evento secondo me della madonna proprio cioè una delle quelle robe che vedete una volta ma all'ennesima potenza cioè livello quantità qualità secondo me impressionante quando vai a fare il riassunto dell'evento Xbox c'è roba ce n'era tanta e secondo me è anche abbastanza indicativo di qual è la loro potenza di fuoco in questo momento cioè è proprio strano che loro non si siano ancora innescati loro hanno possibilità del futuro secondo me il piano a darli per molti perché quello che ci hanno proprio come publisher è di una potenza clamorosa mi sono rotto proprio il cazzo invece della formula Geof che ho trovato insopportabile con questo mischione di pubblicità finta pubblicità gioco pubblicità gioco pagato cioè alla fine se vai a guardare c'esce qualcosa nell'evento di Geof ma nel complesso lo spettacolo di due ore è insopportabile perché c'è l'altro aveva messo le mani avanti anche lui perché quando gli avevano detto quanto sei eccitato per quest'anno 8 su 10 che insomma siccome deve vendertelo secondo me era eccitato pensa agli inserzionisti e quelli che avevano pagato contentissimi di vedere che questo qua sta abbassando un po' non si è guido neanche secondo me gli fa anche bene abbassare le aspettative perché lui è stato uno che gli anni faceva è tutto fighissimo fantastico e poi la gente sa molto dice ma che cazzo sta merda quindi secondo me non è neanche una cattiva idea però in generale credo che si siano proprio rotti la gente avete visto è uscito il listino prezzi la gente è scappata cioè Electronic Arts non ci vuole andare a pagare lui e credo che abbia senso per me che si crei un'alternativa a Geo fatta di publisher più grandi perché di show indie ce ne abbiamo un miliardo anche belli più belli meno belli cioè il Walsom o il Day of the Dev secondo me come ritmo come impostazione sono un po' più fighi Future Game Show PC Game Show fanno 800 miliardi di giochi secondo me ne esci anche un po' strafatto con troppa roba che non ti piace nel pacchettone quelli sono un po' più indirizzati io si prendete i publisher rossi si organizzano fanno un evento loro in cui magari ci butti dentro oggi come cazzo si chiama Dragon Age la gente comunque ha una percezione meglio dello show indie che non è per il grande pubblico infatti Dragon Age ha fatto una cosa un po' particolare ha fatto la preview da dove era? su Xbox l'ho mostrato giusto? molto narrativo il trailer in computer grafica e poi il gameplay l'hanno fatto uscire oggi senza un evento cioè ha usato quella coda lì per fare poi si avevano annunciato e hanno fatto vedere il suo gameplay alla fine penso che gli sia andata abbastanza bene io farei una roba del genere anche Ubisoft più o meno fa la stessa cosa mette l'abboccamento là dentro e poi fa il suo evento ma secondo me anche l'evento Ubisoft dimostra che non ce l'hanno più per fare un evento loro da soli cioè minchia hanno fatto l'evento con monopoli due giochi grossi fai due direct dedicati a quei giochi e mettiti qualcosa dentro un evento e che organizzi magari con altri cioè non ce l'hai c'hai monopoli ormai ormai per lo sviluppo dei giochi che durano sette anni non ce la fai più a fare un evento tuo con dieci giochi e loro non ce l'avevano un cazzo perché Star Wars e Assassin's Creed è la prima volta di Assassin's Creed ma Star Wars l'avevi pure già visto esce tra cinque minuti nel complesso la quantità di giochi è tantissima poi ne parliamo ma lascio a poche a voi il giudizio complessivo Xbox fuori controllo l'unica cosa forse qualche data non condivisa ma quello che hanno fatto vedere era una valanga di roba incredibile infatti sono qua che ripenso riconsidero che effettivamente è adesso la piattaforma quindi il contrario di come si era fatto magari una o due generazioni fa prima Xbox e poi PS adesso forse era il caso di qualcosina PS ma adesso cazzo forse arrivano delle botte grosse cioè è veramente un altro un altro gioco un'altra lega ma dici da quello sì sì cioè è stato uno di quegli show dove non puoi dire ah no sono rimasto un pochino no no show bello però nell'anno stanno ancora con la roba che secondo me non smuove un cazzo Diana Jones è così così ci hanno wow e ci hanno il DLC di Elden Ring e John Midori il come Elden Ring cosa è dirsi di Starfield scusate non credo che smuovano le masse nel 2025 se sta roba va a porto la metà spaccato no beh è chiaro che si hanno Dragon Age ma non è non è solo loro giusto no no Dragon Age no 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 è cio comunque Dragon Age non è esclusiva cioè se intendiamo questa finestra temporale alla vecchia maniera quindi ogni azienda deve posizionarsi è chiaro che Xbox ha detto benissimo vi aspettate che Xbox sia il colosso multinazionale che fa produzioni da colosso multinazionale da quel punto di vista non è da 8 è da 10 perché loro hanno detto adesso noi abbiamo Activision Blizzard Bethesda chiunque questi sono i loro giochi Doom fantastico già comprato per quanto mi riguarda Call of Duty Fallout Starfield Fable Perfect Dark c'era la qualunque mi ha lasciato solo intanto è curioso ma anzi in realtà è corrente con quello che ho appena detto spariti gli ID at Xbox quel miscuglio di giochini più piccoli non esistevano proprio perché secondo me loro c'era un tasso di roba del topino secondo me mandato al macero là in mezzo però era secondo me ecco il mix il burro non era un mix era il topino in mezzo a tutta roba ma sono avrei voluto vedere per mia sensibilità mio gusto un, due o tre in più di quei giochini sono d'accordo mentre quello così che in realtà non si vendeva neanche benissimo proprio mandato al macero secondo me cioè quello che io dico è occhio giusto a non essere troppo esaltati perché io Perfect Dark ci credo quando lo vedo e ci credo quando lo vedo e lo provo ci credi come quando lo vedi in cosa? è Perfect Dark che stanno facendo le reboot io giuro che finché non è uscito il nome non sapevo cos'era perché a un certo punto sembrava Mirror's Edge è uno studio che hanno annunciato nel 2018 sei anni dopo il gioco si è visto con un video scriptato che neanche Watch Dogs e vedremo Gears of War questo non ha neanche data di rilascio quello di va bene c'è nel 2025 inoltrato sembra c'era 2025 però no non c'era Gears neanche data Fable l'anno prossimo e lo abbiamo visto fondamentalmente come l'hanno prima cioè loro hanno detto abbiamo tante cose le hanno presentate bene sono solo aperto al vediamo quando escono perché poi magari Fable è così così Perfect Dark è un gioco da discreto Gears è il solito Gears e a me sta benissimo si è messo agli atti tutto qua sono un attimo scettico perché mi è sembrato sempre quell'entusiasmo trascinante che poi negli anni produce incredibili altalene emotive tutto qua però se la cosa era vi facciamo vedere cosa può essere Xbox oggi sono d'accordo con Vito l'hanno fatto al 100% secondo me Massimiliano più che poi se vai a giudicare i giochi non lo puoi fare mai non lo fai manco quando lo fa fare al Fantasy VII o Shemmue che poi è diventata una roba insignificante sul mercato Shemmue 3 però vendere il sogno che è l'E3 è proprio darti quest'idea di roba figa che arriverà c'era anche quell'altro che sembra un genre PG occidentale con i numeretti 33 qualcosa cioè di roba Expeditions 33 esatto di roba figa da vedere che la guardi dici madonna c'ho voglia di giocarlo secondo me quello devi fare poi lo giudicheremo quando usciranno no da quel punto di vista sicuramente è centratissimo assolutamente eh sì intanto faccio vedere un po' di Xbox vai vai Tommaso è che giusto per dire io come mix generale di giochi lascia stare la presentazione cioè a me anche sto fatto che gli eventi devono essere esperienza a loro volta non mi trovo molto d'accordo come mix di giochi ho preferito il Summer Game Fest ma come mix poi è chiaro che da Xbox mi porto via un sacco di roba che mi interessa hai preferito il Summer Game Fest come mix di giochi presentati poi l'evento Xbox è molto dicentrato sì vado a togliermi l'evento televisivo vado a togliermi dalla newsletter in questo momento mix secondo me era più vario tutto qua poi anche qui ovviamente va a sensibilità ai gusti era troppo lungo no figurati la presentazione in sé mi ha fatto anche cagare io sto solo guardando i giochi come mix l'ho preferito un pochino di più poi tutto qua mezz'ora sai cosa ho notato Xbox perché lo stavo guardando e c'era mio figlio che voleva vedere anche lui e Yane mi diceva non fagli vedere i giochi violenti allora il primo è Doom il secondo è Call of Duty il terzo Diablo Diablo e ho detto ma porca puttana a casa non c'è neanche uno perché posso guardare con un bambino effettivamente il tono dei giochi Xbox è tutto molto chiamiamolo adulto anche se è più edgy teenager Marco già mi dicevito puoi toglierlo dalla chiamata sono abbastanza d'accordo ho detto che il mix mi è sembrato più equilibrato cioè infatti se escludi fai che non ti interessano i giochi da tutti ma se mai avessi detto Futur Game Show PC Game Show guarda avrei fatto finta di ascoltarti ma al summer ma lì sono talmente tanti no ma perché per dire se guardi anche però la varietà riprendendo quello che ha parlato Tommaso cioè da Calf Bust Lego Horizon Kunitsugami e poi c'è quell'altro cioè secondo me la varietà di giochi dal mio punto di vista era un po' più centrata in quell'evento ripeto con le pubblicità Geofile Fadez dei videogiochi sta sul culo a tutti e quello che ti pare un pochino più in linea con quello che io vorrei vedere però è chiaro che Xbox come ho detto prima ha centrato no ma io non è che poi non rispetto la tua opinione però se vuoi vedere tu da Summer Game Fest ti fanno schifo i videogiochi secondo me cioè capisci cioè non è vero che l'evento Xbox non c'ha varietà perché c'è lo sparatutto c'è il Fly Simulator c'era Wawed c'era la roba JRPG pazza c'era veramente ma tre quarti sono giochi di azione in sostanza ma non è manco vero sta cosa Fly Simulator è un gioco d'azione poi cazzo un è Doom un è Perfect Dark secondo me c'è una bella varietà cioè è la varietà del AAA ma non sto dicendo che ti piaci sta che uno poi a fine preferisca altre cose ma ti ripeto quell'evento là secondo me alla fine ci diri fuori 673 delle interessanti se elimini per esempio quello Capcom che si era pure già visto si 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 e poi se veramente vogliamo essere felici per l'Ego Horizon e no cazzo no ma nemmeno a me interessa dico che secondo me è stato più vario poi ripeto c'era Neva c'era Dear and Boy cioè ho visto molti più giochi che dico ah carino ah carino cioè poi ripeto Doom lo compro domani Gears lo compro domani e poi a tanti altri li seguo più ben volentieri tutta roba per il figlio di Tommaso sì ma poi molti in chat dicevano una roba che in realtà ha senso cioè quell'evento è diventato anche minchia io ho il Game Pass sta roba arriva non è neanche ah sì sì questo è l'antipasto l'antipasto prima o poi arriva sul Game Pass no no ma c'è proprio scritto tanta gente lo vede così lì lì 27 su 30 ti per un Game Pass quindi tu alla fine la roba ti interessa anche un po' meno ma dici ok ma Roma la provo perché no cioè e quindi diventa anche quella la potenza di fuoco secondo me è sulla comunicazione Game Pass scusate molto senerico ma similare c'è trovargli evidenzi comunque stavo guardando perché l'osservazione di mi sembra di voglio bene anche o di o di Vitto non è completamente sbagliata che l'anno scorso ancora puntavano su ID at Xbox con dieci giochi che arrivavano sul Game Pass e che il developer accelerator program l'anno scorso presentava alcuni giochi di cui non so che fine abbiano fatto eccetera quest'anno non se ne è proprio parlato probabilmente sono talmente pieni di roba che magari ce l'hanno anche però da mostrare in un evento così dicono ma che altro cazzo dobbiamo fare i sei ore di evento gli facciamo vedere di tutto quindi probabilmente qualcuno qua nei commenti ha appena detto che c'era al Summer Game Fest sì c'è stata quella cosa interessante tipo Blue Mouse Games e l'altro Outer Slot esatto quella cosa lì è abbastanza interessante secondo me perché mi piace l'idea che possa esserci una specie di A24 dei video se è quella che fa tutti i film un po' indie un po' strani dei videogiochi e soprattutto quelli di Blue Mouse a me piace il genere l'horror mi sono sembrati nel genere molto diversi fra loro molto interessanti quello che si diceva era anche che sono studi sono giochi piccoli che possono usare in qualche maniera quell'iniziativa lì l'ho trovata parecchio A24 è nato sulla Roma l'Aquila sopevate sì è il nome dell'autostrada no quella dove scopri che c'hai Gesù di fianco no è sulla Roma l'Aquila se non sbaglio in Boris vabbè ma sto parlando con un branco di guarda io sono già stato crocefisso prima sto zitto stavolta mi spiace ci sono stati anche qualcuno d'accordo con te Massimiliano non le avevo mai lette ma tra due o tre giorni qualcuno mi dirà ma sai che forse avevi ragione tu si compravano il pdf però secondo te a livello quantitativo i loro gusti forse sono un attimo da risistemare ci sta comunque vabbè la potenza di fuoco che avevano come ci stanno scrivendo tutti è che i di ed xbox l'hanno fatto un mese fa perché anche lì lo sposti ora io faccio una domanda da testa di minchia che non sono riuscito a vedere niente qual è la cosa che non vi aspettavate perché tutto bello tutto grandi giochi eccetera esatto cioè era tutta roba che cioè non c'è stato il momento sorpresa forse su xbox erano grosse riconferme trailer eccetera ma lo davo per perso quindi non aspettavo ah sai che anch'io per me è grande sorpresa e mi ha mi ha incuriosito molto quel clear obscure expedition 33 che è una roba che proprio di cui non si sapeva niente sembra effettivamente invece mi ha un po' deluso questo south of midnight poi tutto da vedere davvero perché mi piace un casino lo stile grafico ma poi quando si va il gameplay mi è sembrato un po' banalotto secondo me è quella roba secondo me è quella roba proprio quel gameplay molto collaterale quasi inutile tipo avete presente il gioco di elettronic arts con la tizia coi dati eh 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 cioè il gameplay ci sta va bene poi il resto è quella roba là però è la roba estetica secondo me fantasma lo stile tipo in stop motion molto carino voglio scrivere a motura massimiliano appena detto geof meglio di xbox parlando di stop motion mi è piaciuto moltissimo anche mixtape sì che è quella specie di sembra un film indie con sta colonna sonora ovviamente tutta anni 90 anzi in realtà anche prima perché ci sono tipo i gioi di vision dentro però colonna sonora che sembra veramente spettacolare ecco l'utilizzo di brani di artisti noti nei giochi non è così comune quindi non so mi piace molto l'idea che ci sia questa soundtrack di questi teenager che sembra un po' la storia di loro che crescono sembra un po' uno spin off di life is strange allora io l'ho sentita sta cosa qua ma a me mi parla minchiata perché non dai no a livello visivo estetico dico cioè da quel punto no poi è chiaro che il gameplay è un po' diverso però così mi è sembrato un po' storia adolescenziale anche la stanza sembrava quasi uguale però allora tutte le storie di teenager sono facciamo che non dico più un cazzo stasera stai zitto stai guarda che poi scusa è uscito anche un nuovo life is strange l'hanno presentato in quale conferenza era non sono già dimenticato Square Enix era proprio qua dentro Xbox è vero sì life is strange double exposure esatto con la protagonista del Max ma non sono io tranquillo io li ho giocati tutti li ho giocati tutti non so se essere contento o no perché più o meno la formula è sempre quella è un po' un po' stantia diciamo così io mi sono giocato il genere contento ma scusa Michele no a me il genere alla fine non dispiace se è fatto bene però l'ultimo era abbastanza brutto quello True Colors a me non è piaciuto cos'altro cos'altro dire PC Gaming Show c'è stato qualcosa di interessante hai dato voto 4 tu sì 4 4 secondo me lo sei visto in diretta vuoi recuperare una rottura di coglioni l'ho visto lui in ufficio a livello di ritmo posso anche essere d'accordo secondo me in quel mischione arrivano mille giochi un decimo ti piace ci sta cioè non era stato il peggio però questa cosa io ho preferito addirittura il come si chiamava il Guerrilla Collective 2024 che non era male era stato molto carino eh ma c'erano i giochi lì c'erano dei bei allora c'erano giochi super indie però c'erano delle cose veramente interessanti a me ha fatto molto ridere Hegging On il gioco dove sei un uovo che deve rotolare più carina più carino come lo hanno presentato e di quanto sarà giocarlo probabilmente non è un gioco sicuramente per me perché c'è già scritto avvertivano già che se cadi devi rifare tutto tipo only up ma sei un uovo esatto non sto facendo vedere una grande regia molto carino cioè meno carino mi ha fatto sorridere la presentazione io ho assegnato un altro come il più figo di questo evento che è e ce n'erano parecchi behind the ice palace 2 questo è l'unico che poi ho salvato per il mio super regappone adesso ve lo faccio vedere ah è quella specie di castelvania sì sì ma scusa ma l'uno ci ha mai giocato qualcuno? non so neanche se esiste l'uno sai che potrebbe essere una di quelle robe col 2 diretto oppure l'uno è uscito mille anni fa una roba così com'è che si chiama behind? beyond the ice palace ah beyond the ice palace c'era un altro c'era anche transilvania lì che era pendente castelvania no comunque molto carini a me è piaciuto tanto keyboard mi è piaciuto molto quello del del tizio che mena pian piano si evolve e diventa tipo questo mezzo cyber che tira cazzotti sempre più fotonici usarmi eccetera roguelike del guerrilla sì 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 non è neanche nella mia lista cose da rivedere vabbè allora io me e se no si è parlato tanto di e questo sicuramente siamo d'accordo nights in tight spaces per lo stile soprattutto che ha che è molto particolare ci dicono che l'uno esiste e un altro dice l'uno l'uno era su combo eh vedi mi ricordo una cosa del genere qual è l'altro scusami Massimiliano perché non trovo nights in tight spaces ah sì è piaciuto cavaliere si ristretti sì me lo sono segnato e mi era piaciuto anche neon blood sì che prende che come si scherzava su ring che forse riprende replaced che riprende the last night cioè ancora un po' non si capisce quale uscirà prima sì però se team solid non fa uscire sto cazzo di the last night allora la slide non c'era di più di sputere per lavorare replaced era allo show floor a summer game fest l'hanno giocata hanno detto hanno giocato Marco round two hanno detto che era bello da vedere ma giocare non ci siamo benissimo non trovo il gioco me lo linki massimiliano anche in privato sì lo faccio vedere sì da me un secondo solo voi intanto fate i bullizzati perché non è anche quella nella mia lista di cose vagamente interessanti da riguardare vabbè stavolta è colpa tua non mia però l'avevi l'hai fatto vedere Neon Blood neanche quello nella mia lista delle cose interessate no Neon Blood c'è chiedo scunda sei un razzista protagonista nero allora non vedi i show delle femmine effettivamente Neon Blood c'è i giochi qui neri poi ok no sai a me non ha fatto impazzire però sì non è brutto l'avevo messo mi sembra una roba molto più narrativa degli altri due sì 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 no era lo stile scusate siamo persone con le emozioni ci sta ci sta me l'hai mandato Massimiliano sì guarda nella chat privata ti ho lasciato il link youtube ah guarda nella chat privata di sella ti ringrazio sei veramente professionale va bene quindi io ora potevamo fare i voti un attimino da giocarcela a fare figuracce no no oppure vogliamo parlare dell'argomento clou cioè abbiamo visto 1020 lancio io scusa io posso dire che il days of the devs quest'anno mi ha sbangato i coglioni posso dire i giochi meno brillanti dell'anno scorso dai sì ma anche come ritmo un po' più l'ho messo nice in tight space Massimiliano e vedi perché è il seguito di quello fatto con la gente te lo ricordi ho anche un seguito di un altro ma non mi ricordo il titolo del primo che è sempre in tight spaces ma il soggetto è qualcun altro sì sì ma era di agente segreto l'avevo visto sì sì questo è il primo che ho messo in elenco però è il primo non ci ho avuto voglia di giocarlo però era simpatico era molto simpatico no voglio lanciare l'argomento clou di oggi se siete d'accordo cioè ci siamo ci siamo visti questi eventi abbiamo visto che escono 70 miliardi di giochi di cui alla fine io sono andato a fare una lista ce ne stanno 700 milioni che voglio giocare il problema è ma chi cazzo li gioca si giochi cioè c'è un problema grosso del mercato sulla quantità di uscite da cui non se ne esce secondo me che è drammatica perché pensate al cinema riportato allo stesso modo nelle sale cinematografiche se ogni settimana uscissero invece che 10 500 film tu ne vuoi vedere il punto che secondo me occhio il paragone con la sala cinematografica vale fino a un certo punto è come se paragonassi col cinema la tv e tutti i film e tutte le cose che escono su youtube perché oggi un videogioco te lo fa una persona due persone e quindi è chiaro che anche perché se prendi guerriglia e fotogameshow sono giochi pc e lì c'è un problema di sovrappopolamento di videogiochi che chiaramente fa un sacco di morti ogni mese se escludi giochi pc forse riduciamo a 100 i giochi presentati è chiaro poi che alcuni di questi giochi in realtà hanno anche obiettivi molto più bassi di quelli che ci aspettiamo cioè nessuno di molti di quelli non puntano a vendere un milione di coppie ci sperano ma magari alcuni di quelli con 100.000 coppie si sono rifatti io spero un po' di 100.000 coppie per dire comunque cifre di qualche decina di migliaia di coppie cioè quelli di hypercharge stanno festeggiando 70.000 coppie vendute su xbox cioè ci sono progetti a cui bastano anche molto meno no sono d'accordo però anche per arrivare a quello se continui a fare un gioco è un mercato che comunque quelli che vediamo noi in questi eventi tranne forse il cozy quello super giochi così giochi dell'amore cioè mediamente è gente che ha comunque un investimento alle spalle o personale o di un publisher più piccolo quindi devi rientrare c'è un investimento devi fare dei soldi che sia 10.000 coppie o 100 coppie scusa Vincenzo vorrei rispondere a Fabio Volante che ci chiede cosa cambia dalle serie tv o dalle canzoni il problema delle canzoni infatti è uguale cioè nel senso di soldi fa l'1% perché no cambia l'investimento alle spalle però secondo me non è stata le serie tv però ce ne sono meno l'investimento di serie tv ci sta paragonato al videogioco il youtube che hai detto tu no perché il grosso del contenuto di youtube è quello che stiamo facendo anche noi oggi e non c'è l'investimento dietro alle spalle non è che tutto deve rientrare c'è uno che ci sta perdendo soldi in un mercato in cui tanti perdono soldi scusa Vincenzo hai perso soldi tu io perdo soldi ogni cosa che faccio investimenti sbagliati non ne guadagni secondo me è una roba molto diversa da ok c'è gente che perde soldi il 99% del mercato è una roba in cui ok facciamo contenuti non ci guadagna il 99% qui ci perde c'è gente che si fa male continuamente nel cinema si stanno facendo malissimo adesso in un periodo dopo ne hanno fatti parecchi ma comunque escono 10 film a settimana numericamente secondo me la quantità di roba che esce che non rientra ma mettiamoci anche l'investimento umano a volte perché l'indie spesso è investimento umano posso riportarvi una conversazione l'altra sera sono andato che Ausmark fa ogni anno hanno un compleanno fanno una festa e mi hanno invitato allora sono andato e poi parlavo con uno sviluppatore che che era in Ausmark quando c'ero io è diventato indie per un periodo ha lavorato il suo gioco e poi l'hanno richiamato per dare una mano sei mesi col gioco nuovo loro e adesso è finito il periodo e tornerà a fare l'indie e gli chiedo che piani hai esattamente lui mi fa io non ho nessun piano sto facendo un gioco che io vorrei poter giocare non mi metto neanche a fare i calcoli perché se tu inizi a vedere come effettivamente si pubblica un gioco su Steam cioè devi rientrare in determinate nicchie devi scegliere il genere giusto che tira su Steam devi strutturare il gioco in un certo modo perché quelli sono quelli che hanno più probabilità di aver successo cioè se ci vuoi fare i soldi devi farlo in maniera algoritmica praticamente lui dice io non sto facendo niente di tutto ciò sto facendo semplicemente un gioco che vorrei poter giocare che un po' è la speranza di tutti di fare il gioco e giocare però ovviamente non è necessariamente il gioco che poi vende ma tu hai la tua età quanti anni no no lo fa come la cioè ci torna come un lavoro ma quanti anni hai no mi pare che non la quarantina e ma tu sei cioè sei disposto a questa età a vivere ancora come uno studente perché poi è chiaro che se il gioco non rientra devi vivere come uno studente a quarant'anni e lui fa sì e secondo me di gente così ce n'è ce n'è tante ti insegue è un piccolo sogno e ci sta provando certo è gente che non ha una famiglia da mantenere non ha un figlio e dice vabbè io dentro una casa ce le devi abitare come campi vivo in una catapecchia a 700 euro al mese che magari ha dei risparmi li stai messo a fare non ho un'idea eh no ma anche la storia di quello di Stardew Valley è più o meno quella con lui mantenuto amore però capite che è storia umana per uno che ce la fa esatto che amorosa ce ne sono 100.000 che secondo me non è sano perché quello poi arriva a 60 e si impicca cioè dove cazzo vai però Vito è brutto da dire quanti libri finiscono la stessa roba e cioè effettivamente stiamo in un momento allargando però il libro cosa ti costa cioè quello da solo alla fine ok vivo così riesco a campare non è che io prendo 100.000 euro di miei risparmi dei miei genitori li metto no però magari a sta cosa cioè se devi fare una cosa bene 6-7 mesi di lavoro a tempo pieno ce li hai messi è quello ma anche nel libro ce li metti anche nella musica ce li metti quello che manca in questa roba nel libro nella musica è invece l'investimento dietro grosso di denaro se tu per fare un gioco ci hai perso 100.000 euro fa la differenza se ho scritto il libro non si è culato nessuno amen no ho fatto quello che volevo fare ho provato a fare una cosa figa questo ci sta mettendo la vita ma è una roba che non so l'investimento poi io riesco c'è avrà anche una famiglia che lo sostiene probabilmente il tuo amico beh dietro non lo so però lui penso che viva da solo sta pagando sommaso e non lo sa non ho investigato lo conosco non è che siamo amicissimi non ho investigato quali siano le sue relazioni che deve mantenere eccetera secondo me se fa sto discorso qua vuol dire che lui è un single che si accontenta di vivere con poco ma non è neanche l'unico che è uscito da Osmark che preferisce fare quella roba la invece di lavorare ogni giorno dalle 9 alle 5 su una roba che magari non ti interessa dici piuttosto povero hai capito cioè il ragionamento è quello e il vendere il gioco è relativo finché loro riescono a pagarsi il ramen e beh si riesce a mangiare certo a vivere però secondo me non è un progetto io non riuscirei a vivere così però ci sta anche io ho un paio di amici che vivono da 40 anni in questo modo che sono contenti cazzo me ne frega a me vai a raccogliere le lattine per strada però l'altro giorno Multiplayer ha intervistato 4 studi italiani non è che stanno tutti così c'erano quelli ok dobbiamo provare a fare il gioco stiamo investendo gratis nella vita però poi è una certa qualcuno dice si fanno assumere vanno a fare un altro lavoro cerco a fare un po' di tutto non sono tutti così se il successo è una percentuale così bassa e oggi nella musica secondo me è proprio zero per esempio non è un mercato sano non lo è neanche quello della musica beh ma quello della musica non lo è da un pezzo perché lo streaming ha distrutto tutte le oggi fai musica per divertirti non perché vuoi molta più gente può fare musica e molti meno ci guadagnano più o meno come videogiochi ma come i podcast come tutto quanti podcast ci sono come cazzo vivono tutti questi podcast io non lo capisco cioè capisco il post che fa i podcast che poi gli portano gli abbonati al giornale e lì è una strategia di un certo tipo ma gli altri ma gli altri lo fanno perché tutti questi ritorni pubblicitari i podcast non è che ci siano cioè l'inglese però posso dire una cosa forse è una di quelle economie che noi stiamo cominciando a vedere che lavorano in maniera diversa nel senso che è il famoso poi ditemi sei una puttanata sogno americano cioè un milione di persone ci si buttano contro a una cosa che va di moda che può essere il podcast la musica le serie tv eccetera e solamente chi ha la botta di culo o è effettivamente un metro sopra gli altri è in grado di eccellere è sempre stato così è sempre così è semplicemente arrivato nel mondo tra virgolette della cultura ed è arrivato anche qua a fine cioè così come uno poteva fondare un'azienda di trasporti di trovarsi dieci altri milioni di concorrenti e per diventare bravo dovevi gettare sangue quello che mi turba è che è molto veloce il sistema a dire non sei sostenibile quindi o ci vai sotto quindi vai veramente a spacciare tipo il vicino di casa di Tommaso o raccogliere le lattine per sostenere il tuo sogno oppure molto velocemente il mondo ti dice costa tot non ce li hai non puoi entrare non è sostenibile e chiudi voglio rispondere a London Drive che dice ma 30 anni fa quanta gente viveva di musica sicuri fossero più di oggi secondo me però quando i Beatles si mettono a suonare lo fanno con in testa l'idea di svoltare con la musica e diventare rock star non lo fanno con l'idea faccio il mio podcast dentro casa mi ascoltano e amen così cioè l'idea era se sei bravo è un po' l'idea con cui siamo cresciuti la nostra generazione sul lavoro siamo cresciuti con l'idea che se eri uno che lavorava ed eri bravo avresti fatto carriera oggi se parlo con mio nipote o con quelli della sua età sono super depressi su questo argomento perché ti dicono mi lauro faccio quella e vado a far cassiere giusto e quindi sono molto meno motivati cioè manca la motivazione alle spalle oggi puoi essere ebito se non ti vede nessuno perché funziona un'altra cosa no ma se parliamo di creatività la democratizzazione da una parte è molto positiva dall'altra per forza porta a un aumento incredibile di persone che non ce la fanno cioè quando hai fatto l'esempio dei Beatles che non erano poco anni 90 era anche prima non è che ci provavano in 30 milioni ci provavano in 10.000 poi vabbè c'era ovviamente gente che falliva oggi ci provano in 30 milioni oggi hai i bambini che di lavoro vogliono fare l'influencer con i genitori che vogliono renderli influencer da 5 anni esatto ed è tutta gente che andrà incontro a un fallimento frontale e a quel punto uno ti dice il mercato in realtà è attualmente sanissimo perché ti spacca la faccia se non sei eccellente eccellente vuol dire che puoi fare di tutto qualsiasi cosa per farti notare anche cose moralmente non apprezzabili ricordiamo l'ondata della gente seminuda su Twitch o le scommesse di gente su YouTube Vito in questo momento non ha i pantaloni per esempio ma io nell'ultimo mese ho fatto sia il capezzolo che i piedi quindi ragazzi diciamo che io sarei veramente curioso non so come siamo arrivati a parlare di questa roba però vabbè è interessante no al fatto che c'è tanta tanta competizione sarei veramente curioso di capire quella generazione che è finita su OnlyFans che cioè giustamente anche perché tu dici cazzo fanno un ragionamento di tuo nipote no dici perché io devo studiare e spaccarmi il culo e poi comunque devo andare a fare il cassiere perché il lavoro per quello che ho studiato non c'è vado su OnlyFans faccio più soldi ho mille milioni di followers almeno c'è la gente che si fa le seghe pensando a me cioè già una cosa più interessante anche a livello proprio ma ti dirò di più anche l'idea però qual è la traietro cioè come esci da quella cosa lì una volta che sei dentro fra dieci anni fra quindici anni dove sei esattamente nella nella tua vita cioè quante scelte però prendi a 18-20 anni senza chiedertelo cioè però oggi secondo me Tommaso l'idea di dire mi trovo un lavoro che mi fa star tranquillo non esiste più cioè qual è il lavoro che ti fa star sereno che c'è il lavoro sviluppare i video ma neanche il lavoro che fa Massimiliano secondo me c'ha queste garanzie oggi no soprattutto il lavoro che fa Massimiliano uno che fa le news sul Corriere da Sera tra un po' fanno zompare il direttore di banca non so se ci siete andati recentemente le banche fisiche una volta entrare in banca era un lavoro tu oggi trovi hanno tolto coscivoli e ci sono semi schiavi giovani pagati pochissimo che fanno tre operazioni alla giornata perché non ci hanno manco voglia di far un cazzo sto super scoglionale cioè neanche quel è più un sogno quindi a quel punto qual è la differenza studio mi metto a fare il direttore di banca o mi metto a fare di toker cioè che cambia ma quindi no aspetta aspetta quindi tornando a bombazza sulle nostre cose anche il lato nostro vedi che c'è gente che dice ma io che cazzo mi metto a sviluppare mi metto a fare lo streamer eccetera che faccio prima o faccio altre cose cioè vedi che non c'è gente che si butta nel mercato degli sviluppatori di giovinastri o sei preoccupato che il mercato è troppo largo e milioni di persone che ci provano verranno bastonate e quindi ci sono io sono convinto che se continuano a perdere sangue così tanto usciranno intanto adesso succede che il videogioco fighissimo non se lo incula nessuno è una roba negativa perché poi quello bravo lo perdi finisce che perde soldi uno perde soldi due perde soldi tre non ci mettano più soldi se non ci mettono più soldi noi abbiamo meno giochi fighi banalmente perché avremo solo quelli dentro la sua cameretta magari esce uguale il genio che ti fa il gioco fighissimo qualcuno diceva Vampire Survival ma io non voglio un mercato in cui c'è solo Vampire Survival infatti una cosa che bisogna chiarire che secondo me è sottovalutata quando si parla spesso e purtroppo ne parleremo sempre di più di videogiochi grandi che falliscono attenzione perché non è che allora i soldi vanno in quelli piccoli se i finanziatori iniziano a vedere ah i videogiochi tirano meno ci perdono tutti cioè semplicemente meno finanziamenti a tutti i tipi di videogiochi grandi piccoli medi indipendenti non indipendenti quindi speriamo che GTA 6 faccia bene la prossima console Nintendo faccia bene perché c'è bisogno anche di quelli grossi poi piacciono o non piacciono live service no tirano il mercato tirano investimenti quindi tutti salgono sì sì perché se il mercato se gli investimenti gli investitori cominciano a pensare che sia un mercato a perdere poi i soldi li vanno a mettere in altre cazzate tipo i bitcoin cioè funziona così con i giochi da tavolo cioè un altro quelli che mettono soldi sono disposti a investire con l'opportunità di farne tanti no con l'opportunità di fare è come noi quando scommetti se tu metti 5 euro su 5 e vinci non lo fai per vincere 5 e 50 non ce li metti loro hanno l'idea e quella vendono quando fanno i pitch i videogiochi però sto gioco può fare chiaramente quella roba sparisce se spariscono i soldi dei miei giochi io ti dirò che sono stupito che certi giochi escano adesso perché secondo me cioè è chiaro che non hanno il potenziale di fare un ritorno di nessun tipo quindi non so se siano sviluppati coi fondi degli sviluppatori stessi perché puoi anche essere quello hai lavorato una vita a fare una roba che non ti piaceva a un certo punto fondi il tuo studio indie hai i soldi per sopravvivere due anni ci metti tutto quello che hai il gioco esce non fa un cazzo tu sei povero in canna però gioco guarda l'altro giorno c'erano quattro sviluppatori uno era quello del setto corsa che adesso sta da Dio ovviamente gli altri tre erano stiamo facendo il gioco investendo noi siamo volontari e cercheremo un publisher l'altro era abbiamo degli investitori che probabilmente è mi madre mi zia mi nonna e andiamo avanti e cioè non ci stanno i soldi per fare i giochi poi non so chi ha intervistato magari erano anche ultra indipendenti cioè tipo eh c'erano vari livelli get noodle delivery l'hanno fatto tipo nel passatempo quelli di stupidi pixel per esempio c'erano vari livelli c'erano quelli che lo facevano nel passatempo c'era uno che invece aveva un publisher russo che al certo punto è sparito perché anzi due dei quattro avevano contatti con publisher russi che da un giorno all'altro sono spariti cioè li avranno mandati al fronte li avranno mandati al fronte no banalmente c'è stato il momento guerra in cui è stato impossibile per questi publisher russi far uscire soldi ci sono stati proprio dei blocchi no? cioè i soldi c'è avuto un blocco di flusso sì 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 anche sviluppatori nostri russi non ci siamo più pagati in Italia non c'è un publisher di soldi di uno che va a dire al piccolo sviluppatore dei soldi quindi devono a cercare l'essere questa cosa è evidente penso che quindi il lavoro del futuro sia publisher di soldi giusto? comunque per convalidare che non è solo i videogiochi a Bologna in questi giorni c'è un festival che si chiama Biograph Film Festival pubblicità anche gratuita e passando perché c'è un posto dove passo dove ci sono appunto tutte le business riunioni business che fanno all'aperto perché c'è caldo eccetera c'erano proprio i ragazzini di 30 anni che sentivo che dicevano noi abbiamo aperto tre anni fa siamo una casa di produzione abbiamo questo 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 che abbiamo fatto così stiamo cercando di fare il grande salto quindi in teoria tutta questa industria c'è ancora cerchiamo di mantenere diciamo la vena la vena creativa la vena produttiva funzionante d'altro canto questo rimane qui e poi dopo invece accendo la televisione c'era Sergio Castellitto con il centro di produzione cinema sperimentale eccetera che va su Rai 1 che fanno vedere che avranno fondi a destra e a manca le sponsorizzazioni dietro eccetera eccetera penso che in realtà stiamo solo spingendo verso una produzione più grande e un numero di fallimenti e di esperimenti che non vanno a buon fine più grande rispetto a prima dove c'era una produzione più piccola e quindi un numero più piccolo e faceva magari più rumore adesso fa più rumore il fatto che se oggi uno dice voglio fare lo sviluppatore videogiochi la prima risposta che tutti gli danno è uno su mille ce la fa quindi preparati sarà una cosa molto 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 dura io mi immagino che a vent'anni fa uno gli dicevi entri in Ubisoft entri in EA entri da qualche parte in qualche studio di questo genere ti metti seduto e più o meno è un lavoro abbastanza sicuro adesso è un pochino più dinamica non sei tanto in grado di prevederlo però penso che non sia così tragica la situazione semplicemente più robe in ingresso non ti possono piacere n'essere giocati n'essere di successo in proporzione tutti quelli che escono e quindi adesso io penso che facciamo un po' in quieta cosa sta facendo quel muro con la tua faccia di tutto di tutto no tra l'altro con un modello pass che se si innesca farà girare meno soldi probabilmente scusa però io posso chiedere una roba perché cioè PlayStation Plus alla fine l'unica differenza con il pass è che non ha i giochi Sony al day one è una differenza grossa eccetera però cazzo stanno regalando della roba importante è andato Dave the Diver il mese scorso questo mese cosa ho scaricato che c'è ma lo stanno facendo sempre è quello che ha regalato Epic Store nel corso dei suoi cinque anni voglio provare a fare lo store è senza senso è una libreria di videogiochi di qualità senza senso ogni anno ti dicono anche il valore di videogiochi che hanno regalato come se proprio se ne pavoneggiassero della cosa cioè capisci che c'è un mercato in cui il grosso viene svenduto scontato arriva nei pass quel pass quando funziona fa fare i soldi a Microsoft e Sony non agli altri Animal Well che è un indie degli ultimi che sono usciti uno dei più celebrati infatti me lo sono scaricato oggi giocherò Animal Well direttamente sul plus cioè quella roba lì cazzo cioè ci pensi tre volte adesso prima di comprarti un gioco perché perché non compri più niente se stai là dentro e se uno che non vuole investire dice mi gioco quella roba che sta là infatti stavo guardando stavo guardando The Talos Principle 2 che mi interessa però cazzo più aspetto meno te lo fanno pagare ormai è a 14 euro era uscito a 40 mi pare adesso hanno annunciato anche il DLC infatti mi stupisce perché non è andato bene sto gioco quindi boh proveranno e non se è andato bene se costa 14 euro è uscito sì e no la loro idea ormai è faccio i soldi che faccio al day one perché quelli sono e poi vado a prendermi quelli che non me li hanno dati a prezzo pieno dopo due mesi che è una roba secondo me che è stato un problema che è un problema del mercato perché si cerca di vendere di numeri ok abbiamo avuto 100 milioni di giocatori ma che poi all'atto pratico ti ammazza cioè lì Nintendo guardavo sotto lo stream di Ubisoft e diceva c'erano proprio i commenti ma tanto se aspetta due mesi questo gioco che adesso mi vendi a 130 euro lo trovo a 50 oggi c'era Dragon Age e c'erano persone che dicevano me lo gioco tra cui Wallone che è una persona orribile me lo gioco quando arriva su Airplay sul pass perché tutta la roba Electronic Arts dopo un tot arriva sul pass ma infatti per esempio perché evidentemente l'amministratore di Embracer vuole superare in cattiveria Electronic Arts e ci sta provando con un sacco di impegno ha parlato della possibilità di aumentare ancora il prezzo dei videogiochi il problema è che se dopo due giorni tanto sono in sconto cioè li puoi anche portare a 120 se due giorni dopo costano 45 il problema è che quello che le paga 80 lo pagherà a 120 però non aspetterà dopo i sconti capito? loro hanno il day one che è l'utenza che lo compra e lo paga c'è anche un tetto in cui la gente dice andate a cagare secondo me bisogna vedere qual è il gioco secondo me Rockstar può permettersi di arrivare a 120 senza pensare ma va bene ma parli veramente della straicezione è chiaro Astro Bot per esempio gioco bellissimo deve andare su un mercato a 10 euro in meno perché per la gente deve costare 40 per il genere questa è la follia della concezione delle persone perché poi il valore medio del videogio noi abbiamo la salvezza al momento in cui tutto è molto stabile perché Microsoft non ha innescato il successo perché quando invece nella testa di tutti il valore dei videogiochi è 15 euro per 800 serie ma quando cazzo lo vendi più un videogioca no no chiaro cioè qual è il valore poi è ok costa 50 anche il teso in culo aspetto quando costa 10 se quello invece di 50 guadagna 10 guadagnerà poco l'idea del pass di Netflix è però io faccio quella cifra su un numero enorme di giocatori che oggi ma dove non esistono non li hai mai portati non ti si sono mai inculati nessuno ma qualcuno diceva nessuno mai ha pensato di alzare il prezzo dopo il lancio ti ho pensato io mi pare di averlo anche parlato in Reencast che io sono dell'idea che il sistema del degli ascoltisti che attuali è completamente sbagliato perché incentiva questi comportamenti dove l'unica cosa che ha senso fare è aspettare perché al day one ti arriva il videogioco più costoso possibile e ormai più rotto possibile quindi tu più aspetti meno paghi meglio il gioco esatto che senso ha fare questa cosa qua secondo me la cosa da fare è che devono lanciare il gioco al day one a 40 euro al day two 41 al day three 42 beh però adesso l'accesso anticipato è un po' questa roba cioè per due anni sta a 25 non è così l'accesso anticipato è un'altra roba è un gioco un mezzo incompleto dove comunque fanno degli aggiornamenti gratuiti è così a livello di prezzo però è un'altra cosa secondo me quello che devono fare è che ogni giorno che passa il prezzo di sto gioco aumenta è come l'humble bundle più gente entra più costa il bundle perché così cosa ottieni che la gente ti entra al day one perché è il momento in cui gli conviene di più e hanno cioè non stanno ad aspettare hai l'effetto Nintendo dove tu sai che comunque ti conviene però senza aumentare basterebbe fare Nintendo non scendo di prezzo però è diverso potertelo permettere perché non sai Nintendo eh lo so però perché gli altri non sono Nintendo perché invece di fare un Mario ogni sette anni fai sei Assassin's Creed e quindi quando esce il nuovo Assassin's Creed quello prima è percepito come una roba vecchia sì sì è percepito come deve costare un euro e una nocciolina se ancora è superato l'ho fatto meglio l'ho fatto più grosso l'ho fatto eccezionale sette isole nove isole quindici isole cento ore duecento ore trecento ore mille visori me l'hai già venduto è sempre una roba che le ha dei prezzi e quella esce un Mario Kart l'altro Mario Kart lo rivediamo un'altra generazione forse lo stesso tra l'altro con quattro mappe disegnate e cioè quello è anche il valore del prodotto no c'è uno c'è uno che dice paradossalmente resiste meglio l'indic esce a dieci si sconta otto e non deve sfamare duecento famiglie effettivamente sì perché lì però stiamo parlando sempre di decrescere il prezzo quello che vediamo su e c'era anche qualcun altro che parlava di Baldur's Gate 3 che in effetti sono andato a controllare è ancora dopo un po' di tempo a 69 euro complice anche gli unici sconti che ho avuto ho avuto uno sconto del 10% un paio di volte sì 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 ma roba c'è dei bei vecchi tempi quando andavi a cercare era il 10 su una roba che non scendeva dicevi cazzo lo prendi adesso o devi aspettare proprio anni prima che vada giù e questa roba qua è l'unica soluzione è o nintendo non scendi o addirittura come dici tu però devi avere il game of the year per fare quella roba lì cioè o lo fanno tutti oppure se lo fai tu col gioco mediocre che non si incula nessuno cioè lo tiene e non puoi vendere poi il successivo dicendo picciare il successivo dicendo ci ho avuto 200.000 giocatori perché per me l'idea dello sconto è proprio quello cioè di creare l'utenza da vendere successivamente ok abbiamo fatto pochi soldi però l'hanno giocato c'è interesse ti vendo l'interesse su questo titolo e quell'interesse se lo vanno a prendere regalando i giochi sul lungo periodo è come free to play vabbè l'idea del free to play scusa Michele finisco poi poi ti lascio l'idea del free to play è fantastica sulla carta tu mi vendi un gioco gratis minchia che bello ma quando c'è un mercato pieno diventa una roba inutile che non funziona più scusa Michele no se la tua idea è il free to play e poi gli vendo qualcos'altro e poi la gente dice ma che free to play mi vendo qualcos'altro passo al prossimo free to play tu hai già perso ed è un'area che tu non puoi controllare perché diciamo inquinata dall'atteggiamento degli altri allora o hai la roba di Nintendo dove dici vuoi Mario ah è solo qua quindi tu puoi provare a lanciare altri prodotti e fare altre politiche di prezzo questo è qua comunque non non ne usciamo accorciando la velocità o annullando addirittura la tempistica di questo prodotto è a basso prezzo o addirittura gratis con il Game Pass cioè è un continuo sembra un drogato che si fa sempre più droga e cosa vuoi che fai alla fine fai un overdose e muori cioè è sempre più che nel periodo anche fai anche quello ti tagli le braccia se riesco a cacciare non puoi buttare giù il muro e fare quella casa tua grandissima ma infatti sarebbe ideale solo che adesso io vado di là sarà tipo appartamento di Salentino immagino perché con i muri scrostati le garze per terra a tal proposito a tal proposito vi consiglio a tutti di unirsi al nostro il loro appartamento e farmi il mega appartamento sarebbe ideale Michele devi togliere questo sfondo o ti uccido giuro è disturbante quello che ci costringe a guardare chi è che ogni anno si ricorda che tu compi gli anni chi è che si ricorda qua dentro io mi ricordo sempre non mi rompe a tal proposito volevo dire che su t.me slash rincas c'è il nostro canale telegram ma perché poi che cazzo c'è stavi benissimo nello sfondo che avevi messo esatto ti rimetto lo sfondo perché ti vedo teso ti vedo teso ti sento agitato c'è dell'attenzione in questo video se volete potete venire a discutere di muffe ti piace è andata via la luce e quindi si vede malissimo potete venire a discutere di muffe con noi e Sodalemon che ha i suoi pensieri shadow scusate shadow shower pensieri quindi tu stai parlando di cose importantissime o di cose che non c'entrano un cazzo ma altro e arriva lui e ti dice dei pensieri bellissimi Sodalemon ti vogliamo bene anche se oggi diceva che non vede l'ora che ci siano le girlfriend e hai clamoroso e così si può trovare un amico con cui parlare in tutto questo io sottolineo che sono quasi le 11 in Finlandia e c'è ancora luce Tommaso c'è qualcosa che non ti stai dicendo cioè è finto il mondo esterno tipo Truman Show oppure c'è una bomba atomica e non se ne è accorto Tommaso che ha delle diverse non c'è un cazzo da ridere è un mondo proiettato ma volete che vi porto aspetta provo a vedere se mi scollego tanto cosa succede se stacco questa spina no no oggi il sole tramonta alle 22.44 fai dei mini di incast video in cui te ne vai in giro a camminare per il mondo finlandese sai che in Giappone ci sono dei canali Twitch con la gente che va in giro e parla e mangia e ci cambia se fanno soldi lo faccio se no no eh loro lo fanno per soldi come no e poi ci finanziano i videogiochi se tu vai in Finlandia sarà un posto del merda ma nessuno l'ha visto mai vabbè in questo periodo c'è anche la bella figa quindi magari magari può piacere miglioriamo come esseri umani è vero hai ragione ormai una certa età non mi interessa neanche più Michele scusa rimetti i mattoni se non ce la fai ti ho offeso basta sono andato a prendere l'acqua vuoi vedere io che vado avanti indietro si cazzo ma perché dovresti nasconderlo ma chi sei Sabrina Ferrilli dei tempi d'oro non ho capito Sabrina Ferrilli è vero infatti c'è un'altra Perceptron ci chiede parlaci un po' dei giochi a tavolo guardate che bel gioco che ho comprato recentemente slide espire esatto devo ancora giocarci a tavolo? si come funziona? lo conosci? uguale al videogioco presumo che si giochi con le carte è solo un modo dove tu devi calcolarti tutto ah ok quindi è meglio non lo sai vendere bene comunque allora è collaborativo si può giocare fino in 4 quindi si può giocare in 4 collaborativo contro la Spire chiedono se ci sono le miniature nel gioco di Slay the Spire ci sono 4 miniature fanno un po' cagare non sono un video ci sarà continuo a venderlo benissimo in questo gioco Slay the Spire Table eccolo qua fanno veramente cagare le mie due sì conferma parlate però non vi interessite vuoi parlare un altro bel gioco da tavolo Tommaso un altro? sì ho preso questo qua recentemente ma senza anche farcelo vedere vuoi darci il titolo questo me l'ha consigliato un podcast che ascolto il Dunwich Bias Club che qualcuno conoscerà si chiama Aila and Something Shiny sembra un gioco di un coniglietto simpatico e in effetti parte con questo coniglietto è un gioco in solitaria parte con questo coniglietto che va nella foresta si prende la carotina parla con la ranocchia eccetera no? è diviso è diviso in cinque capitoli e già alla fine del primo succede una roba super tragica e quindi più vai avanti più la storia di questo coniglietto diventa cup e diciamo straziante quindi diventa una roba abbastanza inquietante ma è molto molto simpatico non ho giocato completamente ho fatto solo un paio di capitoli adesso non vedo l'ora di fare gli altri perché si aggiungono delle meccaniche diventa molto interessante difficile da recuperare quindi io vi consiglio dei giochi anche non proprio semplici da trovare se invece volete una roba più facile forse può piacere anche a Vito che briscola Project L molto bella questa esecuzione veloce Project L ce l'ho che è praticamente il gioco di Tetris si può giocare sia in solo sia in no a 4 ma io ci ho giocato in 2 io ci ho giocato in 2 anch'io sempre il gioco di Tetris è una parola molto grossa allora è un gioco non me l'avevo venduto così col gioco di Tetris bisogna bisogna ci sono delle delle maschere da riempire con i tetramini più velocemente dell'altro degli altri che stanno giocando con te e ovviamente a volte non hai pezzi devi fare un po' delle manovre strambe per recuperare i pezzi molto carino se vi piace Tetris basta dai un momento giochi a tavo senti volevi parlare di Switch Nintendo non è arrivata quando ve l'aspettate Nintendo con sto cazzo di Direct che non mi fa finire l'E3 se non arriva Nintendo allora secondo me aspetta che finisca che sgasi un attimo tutta sta cosa qua però il Direct quello che fanno questo mese qui è No Switch 2 No Switch 2 si già già annunciato prima vabbè però Nintendo vuoi che a Natale non metta un paio di robette carine secondo me Metroid 4 esce su Switch perché ha più senso solo Switch no secondo me al massimo fanno la mossa a Zelda magari vengono un sacco che quando annunciano un gioco su una piattaforma rimanga anche su quella piattaforma è come se non avessero venduto del fumo ai loro pelli però immagino quanti Switch hanno piazzati quanti milioni siamo ha senso lanciare un IP grossa come quella su una piattaforma che ha 100 milioni di console in giro o su una piattaforma che non c'è ancora nessuna fai uscire la doppia versione come Breath of the Wild infatti può essere che faccio lì è anche il discorso di vendere la nuova piattaforma la nuova piattaforma il gioco è il Metroid effettivamente non sposta neanche queste grandi cose secondo me non sposti cose nella nuova piattaforma metti il nuovo Mario Kart e qua fai fai Metroid 4 e su 100 milioni di console installate lo vendi a 10 non so 20 io mi aspetto una console molto in continuità quindi secondo me la roba anche di fare la doppia versione ci sta che gira molto meglio di là e la gira in un altro modo comunque allora l'unica cosa dov'è che scusate ho sbagliato particella o qualsiasi cosa cos'è che ha lanciato Nintendo con Metroid come titolo di lancio niente niente non è mai stato il suo forse un DS un 3DS può essere Metroid non vendeva un cazzo cioè il miglior Metroid è Dread della storia come ben dito perché è su Switch ma se vai a vedere i numeri di Metroid Prime su Gamecube mi pare roba da 2 milioni cioè bassissimo allora secondo voi sarà una roba di lancio lì no? ma 2 milioni in generale non è un gioco ha venduto bene si ha venduto tutto eh ma se Nintendo sai quando vende 2 milioni ha venduto un cazzo Nintendo fa principessa pitch probabilmente l'ha venduto di 8 cioè capisci si ma è Switch che è un po' particolare secondo me si è chiaro che non va su 3D però parlavo lì un gioco di capolavoro assoluto il migliore della serie Metroid cioè Prime l'ho rigiocato quest'anno è rimasta è una figata della madonna beh io lo stavo giocando originale su Gamecube l'altro giorno non è invecchiato non lo so forse i controlli hanno migliorato un po' però si è bello ma infatti è quel gioco là è 1 a 1 è meraviglia incredibile comunque Princess Peach 1,22 milioni di una roba su un personaggio secondario il più brutto gioco a Nintendo su cui ho mai messo mano io parole Peach insignificante e lo spunto di cui si voleva discutere ma poi credo che siamo anche in chiusura siamo in chiusura assolutamente ok dai l'ultima cosa di cui volevo discutere è questo un spunto che esce dalla chat telegram di Rincast e cioè un utente che è uno dei nuovi arrivati credo ha sollevato questa cosa a cui non avevo mai pensato cioè che un sacco del parco giochi di Switch è il riciclo di quello Wii U che non si è inculato nessuno all'epoca e comunque ha contribuito cioè quando li hanno rilanciati su Switch hanno fatto il disastro però quali sono questi giochi di Switch partendo partendo da Mario Kart Mario Kart 1 poi c'è il Splatoon c'è il no Splatoon è uscito sono usciti i segni cioè in realtà hanno riportato tante cose ma in realtà se guardi tra i giochi più venduti c'è Mario Kart e non Super Mario U cioè hanno poi fatto anche Super Mario 3D hanno fatto il 3D World eccetera 3D World con un'aggiunta però hanno fatto il Paper come si chiama no come si chiama l'ultimo del Thousand Ours Super Mario è però con le ragazze in cui in generale con le rimasterizzazioni ci hanno marciato ma tutti secondo me i produttori come vi dicevo prima ci hanno marciato la roba del mercato c'è il Breath of the Wild è originalmente un gioco Wii U vabbè è un gioco insieme è uscito contemporanea allora abbiamo LEGO City Undercover che vi ricordate non era neanche malerrimo che è stato portato Mario Kart 8 Deluxe Pokken Tournament Baionetta 2 che non penso che sia la piattaforma a Baionetta 3 vabbè era per prepararti a Baionetta 3 diciamo che già ci sono i giochi di Mario alla fine che fanno i numeroni Donkey Kong Country Tropical Freeze ok Captain Toad Treasure Tracker vado a raccogliere gli ultimi non l'hanno pensato Pikmin Wonderful 101 quasi tutto hanno riportato però non credo che sia il segreto del successo sono arrivati tanti giochi su una piattaforma che poi si è venduta da sola però ecco il discorso era adesso con lo Switch 2 questa cosa qua non la possono più fare infatti alla fine spe 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 secondo te non lo possono più fare perché sono capace anche di rifarlo eh Nintendo è follia totale cioè Mario Kart puoi fare pacchetto dello stesso gioco in cui ci metto tutte le 96 piste gli ultimi bam fatto e un è andato se rivendono Mario Kart 8 sono marci però eh madonna fermali fermali Massimiliano digli scacchio knock knock scusate non si può fare è chiaro è chiaro che posso fischia e ti hanno venduto Super Mario Bros 100 milioni di volte lo possono fare però non possono più farlo aspettandosi di vendere di nuovo 50 milioni di copie no ma è fatto il Mario Kart nuovo però per esempio Smash Bros faccio fatica a immaginarmelo che loro facciano un altro episodio adesso è talmente universale quello che hanno messo in piedi Smash Bros è l'ultimate è talmente definitivo che boh cosa? Super Smash Bros Ultimate è talmente definitivo sì esatto per me puoi fare la versione con tutti i personaggi ti butto dentro altri 10 personaggi e ce li faccio lo stesso gioco cioè come fai a rifarne un altro di Smash Bros a meno che questa console non è incredibilmente più potente e io non me lo aspetto fai quello Mario Kart lo fai nuovo sì anche perché vendi altri 100 milioni di copie ma poi Switch secondo me è una console Switch 2 è una console molto a rischio qualcuno diceva gli indie era una roba che replicare quel successo se tu vai in continuità la gente che se l'è comprata per gli indie gli basta quella non ha bisogno di giocarli meglio quindi l'idea è che Switch io mi aspetto 3DS comunque ha fatto buonissimi numeri eh esatto ma meno cioè se arrivano questo Nintendo fa 70-80 milioni è sicuramente successo certo con Xbox che fatica a farne però 70 milioni vuol dire 80 vuol dire fare 60 meno di Switch cioè se vuoi guardare per investitori impazziscono cioè è vero che è un grande successo però se li guardi secondo voi Galaxy 2 per quando se lo ottengono io me lo aspetto a Natale Galaxy 2 ed Ecos Metroid è la remaster fatta con la Metroid Prime il seguito di Metroid Prime cioè la remasterizzazione di Galaxy 2 ah è semplicemente Galaxy 2 manca solo il 2 e loro l'hanno fatta in una confezione che hanno tolto dal mercato non esiste più io l'ho comprata usata però c'è io ce l'ho l'hanno messa là adesso la rifai che ci metti il 2 così chi si è comprata quella con uno si ricompro pure quella cioè la genialata di Nintendo è anche quella secondo me perché la togli dal mercato qual è il senso perché sono stronzi stronzi secondo me invece è ti rimpacchetto col 2 quando voglio sì sì per 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 e io la compro sentiti e poi tolgono dal mercato anche quella così anche a te ti vengono di nuovo la vuole ma basta va bene sono le 22.01 vogliamo salutare sì però scusa ultima cosa Nintendo alla fine sta cosa qua tutti dovrebbero fare sta cosa qua se non compri il gioco adesso lo tolgo dal mercato e te attacchi al cazzo dovrebbero fare tutti a me non mi dispiace poi su che io quella è il momento e poi diventa da collezione vale un miliardo come Lego Lego fa questa cosa grazie amici grazie di averci seguito anche per questa sera e speriamo che questa discussione vi abbia interessato anche se siamo andati un po' a caso ciao non che le altre volte esatto non capisco la sicurezza Michele salutate dai ciao a tutti ciao a tutti no no la bragia in saldo non fa volevo fare un raid andiamo da Vikings l'unico giocatore più forte di me al mondo in tutto beh no io ho un pene più grande netta me nel gioco del cazzo ciao cari vabbè quando ci vediamo noi la facciamo a luglio ce la facciamo salutiamo o no a luglio si può fare devo far partire il raid dopo la metà di luglio ci sono ci sentiamo ciao belli ciao Michele però comprate una camera con tutti i soldi che fai porco ciao belli ciao 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 ciao